Colpo grosso, vittima una vicentina di 77 anni che vive vicino alla rotonda del palladio. I ladri entrano in azione nel primo pomeriggio approfittando dell'assenza della proprietaria. Dopo aver forzato la porta di casa, riescono a scardinare la cassaforte a muro che contiene 30.000 euro in contanti e gioielli per un valore di 150.000 euro. Quando la signora rientra nella sua abitazione, ormai i malviventi si sono già allontanati. La donna trova la casa sottosopra, chiama il 112. I carabinieri del nucleo operativo stanno visionando le immagini del sistema di videosorveglianza. Ora è caccia ai ladri.